Sono stato chiamato spesso da varie aziende per selezionare o assistere dietro le quinte selezioni del personale e così ho raccolto una certa quantità di dati e di impressioni che vorrei condividere con te nella speranza che possano esserti utili qualora ti trovassi in una situazione del genere. Vediamo quindi dopo la sigla che cos'è oggi un colloquio di lavoro sul piano della comunicazione non verbale. Ciao, sono Sergio Massi, mi occupo di facilitare le relazioni e in questo canale cerco di darti il mio contributo per migliorare la tua comunicazione, soprattutto spesso facciamo dei video con un focus sulla comunicazione non verbale. Beh, oggi parliamo di colloquio di lavoro e della sfumatura del non verbale durante i colloqui di lavoro. Innanzitutto, al di là dell'ovvio, chi si candida per un posto di lavoro dovrebbe essere consapevole che si sta mettendo in vendita. Anche se è scomodo farlo e è scomodo dirlo. La prima impressione è quindi fondamentale. Ma come si forma la prima impressione? Quali sono le leve su cui viene misurata nel bene e nel male? Durante le prime fasi dell'incontro, una delle qualità che, se sono presenti, agevolano in maniera notevole la creazione di una buona impressione è il carisma, di cui pochi sanno dare una definizione corretta. Garzanti la definisce grossomodo come una caratteristica di chi, grazie alla propria personalità, esercita fascino, attrazione e potere di persuasione sugli altri. E mi permetto di aggiungere che questo ascendente dipende in grande misura dai nostri atteggiamenti non verbali, non tanto dalle competenze dimostrate. Sul piano non verbale la prima cosa che colpirà l'occhio dei selezionatori sarà il tuo abbigliamento. Il gusto nella scelta di come vestirti, infatti, fa parte del tuo linguaggio non verbale. L'outfit andrebbe scelto in base alla posizione per cui ti candidi, ma in generale richiede sobrietà, buon gusto e nessuna nota eccentrica o troppo appariscente, perché ti ruberebbe clamorosamente la scena. Non vale più il consiglio dei nonni di un tempo per cui l'abito buono è sempre la scelta migliore, poiché deve essere appunto coordinato al ruolo per cui ci si candida. Segui quindi il consiglio dei vecchi nonni se ti presenti a una selezione per consulente finanziario o venditore in un salone di automobili di lusso. Ma attenzione alla giacca e alla cravata o al tagliere impeccabile se andrai davanti a un team di creativi. Cerca magari di vestirti più in maniera consona a un mondo creativo, perché stanno cercando un grafico pubblicitario, non un venditore in giacca e cravatta. Lo sguardo è un'altra componente fondamentale. E la seconda cosa che colpirà i selezionatori, appunto, sarà il tuo sguardo. Ricorda che le persone con le quali siamo maggiormente a nostro agio sono quelle con occhi limpidi e sorridenti. E proprio gli occhi, da che mondo è mondo, ci permettono di riconoscere la buona volontà e l'umanità di una persona. Quindi offri i tuoi in maniera chiara, non essere sfuggente, ma nemmeno invadente. Lo sguardo aperto è indice di interesse e disponibilità, come il sorriso. E parliamo di sorriso. Riguardo al sorriso è bene ricordare che psicologicamente è un suggello di alleanza e per questo non deve essere elargito in continuazione. Ho visto troppi candidati con gli angoli della bocca all'insù, sebbene questa sembrasse più una smorfia di tensione che un vero sorriso, perché gli occhi non erano complici dell'emozione simulata. Ricorda che l'autentico sorriso accende sempre prima gli occhi, perché stimola prima i muscoli zigomatici superiori e solo dopo quelli inferiori, facendo muovere la bocca. Quindi prima muscoli zigomatici superiori creano le famose zampe di gallina. Gli occhi si accendono solo dopo, parte il sorriso vero. E un sorriso dettato dalla tensione o, peggio, da uno sforzo innaturale è più dannoso che altro. Arriviamo alla stretta di mano. Le regole del buone maniere, in casi come questo, in casi quindi di colloqui di lavoro, dicono che è meglio non fiondarsi a dare la mano per primi, ma attendere sempre che ci venga offerta ad almeno uno dei selezionatori. Se hai seguito uno dei tanti corsi American Style sul potenziamento personale, sull'ottenimento del ruolo up con l'interlocutore, quello in cui ti viene detto di dare la mano all'altro girando la tua con il dorso in alto per comunicare inconsciamente appunto la tua superiorità, beh, dimenticati tutta questa roba che è vecchia di più di 30 anni, arrivata dall'America che è stata anche mal interpretata. Porgi sempre la tua mano in maniera naturale, mantenendola se possibile perpendicolare al terreno, senza voler dare dimostrazione di forza e soprattutto mantieni la presa per un tempo normale, che è quello che detta il tuo ospite. Non essere sfuggente ma nemmeno maniacale nel trattenere la mano dell'altro più di qualche secondo. E soprattutto guarda sempre la persona negli occhi mentre le stringi la mano. Anche su questo punto devo dire che ho visto troppi candidati stringere la mano in maniera seriale, dandola a Tizio ma guardando Caio, che è il successivo a cui stringerla. Andiamo a vedere come sedersi poi, perché i colloqui di lavoro di solito si fanno da seduti. Beh, cerca di sederti in maniera comoda, occupando tutta la seduta e appoggiandoti allo schienale in maniera rilassata, non sbaccata, mi raccomando. Questa postura ti aiuterà a conquistare la calma e l'autocontrollo. Non appoggiarsi allo schienale o, peggio ancora, e l'ho visto tantissime volte, occupare solo la parte anteriore della seduta ti farà sembrare una persona provvisoria, insicura, e darai l'impressione di non essere a tuo agio e di volertene andare al più presto. Quando ti accomodi cerca di assumere una precisa posizione mentale. Non sono qui per ottenere un lavoro, ma perché ho qualcosa da offrire. Di conseguenza anche la tua postura fisica andrà a coordinarsi e riuscirai sicuramente a suscitare più interesse. Se senti profondamente di avere qualcosa da offrire, il tuo corpo di riflesso assume dinamicità e i suoi movimenti diventano più fluidi e stimolanti. Se al contrario ti presenti al colloquio con la sola determinazione di ottenere qualcosa, il tuo corpo sarà naturalmente più passivo e con un tale atteggiamento sarà veramente molto difficile convincere qualcuno che non può fare a meno di te. Attenzione a una cosa, quando viviamo timori che in una situazione come quella di un colloquio di lavoro sono assolutamente normali per molti, e parlo di paura del giudizio negativo, della paura del rifiuto, oppure di quella derivante dal non sentirsi all'altezza, il nostro inconscio in quei casi invia dei precisi comandi al corpo, mirati a renderlo più piccolo, meno ingombrante. Ed ecco che allora chiudiamo le spalle, ecco che ci ingobbiamo un pochettino, pur senza che ce ne rendiamo conto. Quando assumiamo questo tipo di posizione, che possiamo definire da perdente, purtroppo avviene un rilascio di cortisolo, è un ormone particolare che entra nel nostro sistema circolatorio e va ad aumentare lo stress negativo innescando un circolo vizioso. Più ho paura, più mi chiudo, più mi chiudo, più ho paura. Ne abbiamo parlato in un video qualche tempo fa, quando ti ho raccontato delle power poses. Cerca quindi di sederti in posizione comoda, ma aperta, possibilmente a schiena dritta, senza accasciarti o chiudere le spalle, perché quando ti apri, quando occupi più spazio con il tuo corpo, mandi in circolo un altro ormone che è molto più interessante, si chiama testosterone, ce l'hanno anche le donne. È l'ormone della dominanza e può aiutarti a sentire molta più sicurezza e padronanza di te. Ultima cosa che vedo che pochissimi candidati, soprattutto giovani, fanno. Informarsi prima sull'azienda. Uscendo dal tema non verbale, ecco, l'ultima dritta da non sottovalutare. Mia nonna usava un'espressione colorita per definire chi non è consapevole di qualcosa, chi improvvisa e non sa stare al mondo, in buona sostanza. Diceva in dialetto quello che è appena asceso dal fico. Beh, cerca di non essere un fico caduto in questo senso. Oggi esiste il web e hai una grandissima opportunità di informarti con dovizia sull'azienda che sta per riceverti. Fai una ricerca su dove stai andando, cerca di capire le filosofie aziendali di chi ti sta per ricevere. Quali sono i prodotti o i servizi di spicco? Quali sono le tue caratteristiche che meglio si sposano con il ruolo per cui ti candidi? Questo ti permetterà di dimostrare che l'azienda stessa ti sta davvero a cuore e che conosci alcuni particolari in più rispetto agli altri candidati che, ti puoi fidare di quello che ti dico, non avranno probabilmente investito il loro tempo in questa ricerca. In fine conti, quando qualcuno si mostra interessato a te, non ti risulta più coinvolgente, più simpatico e più apprezzabile? Bene, ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione, se ti è piaciuto questo video un like mi farebbe molto piacere e se non ti sei ancora iscritto o iscritto al canale lo puoi fare con il pulsante qui sotto su YouTube, iscriviti. E noi ci diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre come tutte le settimane, alle 11 del mattino con una nuova puntata di Briciole di comunicazione. Buona settimana, da Sergio Massi. Grazie a tutti.